e benvenuti ragazzi eccoci qui per un nuovo video e oggi ragazzi ritorniamo finalmente sulla serie di minecraft dopo un bel po' di tempo che non porto gameplay e allora ragazzi oggi volevamo andare ad esplorare un villaggio che era un pochettino più in lab che ho trovato l'altra volta mentre infatti qua era pieno di alberi ecco io ho formato tantissima legna e adesso non so quanti stacchi di legna comunque sono posto per un bel po' di tempo con la legna comunque qua ho trovato un villaggio desertico penso che è praticamente un villaggio però giallo color sabbia allora prima di iniziare ragazzi vi chiedo per favore di arrivare per un nuovo episodio a boh 10 like dai per favore almeno 10 like dobbiamo riuscirci ad arrivare e anche un'altra cosa è che a partire da stanotte per cui voi che state guardando il video a partire dal e oggi che giorno è a partire dal 17 che oggi sarebbe a partire dal 17 a mezzanotte ci sarà il nuovo canale che è un canale in cui farò soltanto le live si chiama federics game live comunque link in descrizione ovviamente allora il museo è questo no mi ricordo come si dice il villaggio è questo allora io siccome ce lo avvicino a casa potrei anche fare la farm segreta di villager visto che comunque lo sappiamo tutti che i villager non sono brutte persone non sono belle persone per cui anche se lo uccidiamo sono dei mercanti dei mercanti che secondo me ah è una cosa che è molto importante in questi giorni ho farmato tantissimo cioè proprio ho farmato tantissimi che figo sto blocco e questa è rana penso e ho provato tantissimo anche il carbone che adesso ho due stacche qua e una stacca in a casa e ok ma che bello che bello ok questa è la torre di controllo ah no la torre di controllo è quella la è più alta vabbè scendiamo si dai non moriamo la faccio non moriamo ma e la madonna ho saltato i due blocchi e allora continuiamo ad explorare questo bel villaggio comunque ragazzi mi avete chiesto nei video di minecraft e di tip simulator che a proposito tip simulator ritornerà la serie da zero e perché adesso io l'ho finita praticamente da solo comunque ritornerà la serie da però sarà da solo cioè da zero ah cosa che vuole che state qua e proprio da zero completamente in modo tale che ogni giorno uscirà un nuovo video da adesso spero perché sono impegnatissimo io mi ero fatto un piano quando registrare quando no ok ma è un casino riuscire a registrare così tanti video per arrivare fino a un video al giorno io ci provo oh due cose ci sono adesso voglio vedere cosa ci nasconderà dietro a quelle cose ah e poi ragazzi vi ricordo che nel prossimo episodio andremo a costruire vi ricordo mi è venuto in mente adesso andremo a costruire il tempio degli iscritti per cui scriveteli tutti tutti gli ultimi 20 iscritti che ci sono io ve li scrivo allora cioè ah ragazzi dimenticavo ragazzi e ragazzi vi dimenticavo iscrivetevi anche al canale perché negli ultimi 20 iscritti gli iscriverò nel tempio che andrò a costruire nel prossimo episodio per cui se vi iscrivete nel prossimo episodio scriverò le 20 persone che si iscriveranno negli ultimi 20 iscritti al mio canale in modo tale che abbiate anche voi un posto visto che non possiamo più fare le live non ci siete più in diretta comunque live ci saranno ancora ma non su questo canale sono su faderics game live in cui farò le serie molto più a lungo andrò avanti con le serie probabilmente allora qua abbiamo sta fornace ok anche se fosse il blocco di ferro qua abbiamo pieno cioè pieno non so cosa sia e qua abbiamo la campana ciao come stai sì l'ascensore dovrebbero farlo però perché è un po' un casino riuscire ad arrivare fino a a là in alto adesso non è anche questo ora stai dico non c'è niente qua in alto Cioè ho 20 video da editare, anzi alcuni li ho anche già pronti e editati. Senti, sta casa qua sinceramente non ci voglio perché poi so che vado lassù e non ci sarà niente. Quest'oggi ragazzi volevo andare ad esplorare un po' il territorio e cercare il tempio che vedo già... Ma c'è qualcos'altro all'inforno, aspettate. C'è un altro villaggio. Vuole un villaggio? Sì, un altro villaggio. Quello là in fondo. No, volevo anche trovare il tempio nel deserto, in questo episodio sarà più che altro basato sul deserto. Per cui vedete il deserto come sfondo di questo video. Eh sì, quello lì è proprio un altro villaggio. Ma cos'è che mi salti davanti? Spostati, no? Ti investo mo. Ok, allora il villaggio è questo qua. Non so quanto possa cambiare da quello di prima perché è uguale ma più piccolo. Per cui... Vabbè. Perché poi sono due villaggi uno a fianco all'altro praticamente. Oh, questa cosa qua è legno. Può essere molto utile per fare le mappe. Anche se... Per ora non so neanche l'utilizzo, però fa bella esteticamente. Ah no, ma è grande anche questo. E qua c'è anche il coso. Uh, l'elmetto mi piace. L'elmetto mi piace proprio. Può vedere come mi sta... Ah ma io ce l'ho già l'armatura. Eh vabbè. Prendo anche questo qua. Due fornaci, ma le faccio molto valentieri. Allora qua c'è il carbone, ma ne ho già farmato tantissimo. Voglio provare a fare una cosa. La mia torcia, ma dove è finita? Date la mia torcia, per favore. Vabbè, comunque non è che ci siano molti sti villaggi, eh. No, volevo piccato e cercare il... Come si chiama? Il tempio. Che penso sia verso di là, perché di qua è già finito il deserto. Vediamo un pochettino. Guardate. Raga, là c'è il... C'è un portale. Wow. Ah, San Francesco. La pala, la pala d'oro. La faccio. Invece il portale non è completo. Anche se io rompessi questo qua. Intanto rompo il blocco di oro. Oh. Mannaccia. Rompo anche questo così. Almeno... Ok, allora, iniziamo subito. Allora, la mia idea era quella di fare un quindici per di qua oppure, sì, quindici per di qua e poi quindici per di qua e fare un quadrato. andiamo a sapere. Allora, la mia idea è di fare un po' di qua e poi da ci sono la mia idea. e poi, sì, e guardate un po' di qua e poi... ok allora così dovrebbe funzionare mettiamo qua i colori non ci azzeccano molto però 3 4 5 6 7 ok 8 9 10 11 12 e 13 ok così è 13 se ne faccio su un altro così è 26 ok allora nella prima parte ce ne saranno 26 al posto che vedete ok così in te che sono 26 qua adesso poi faccio pure una porta qua ci metto e il problema si ok ci sto e basta qua faccio una piccola porta qua c'è questo e qua sopra lo ricopriamo con la stompa non mi basta se no mi arrabbi dai non basta vabbè sembra anche una cosa moderna qua magari ci faccio cuocere la sabbia e cuoco la no cuocere la sabbia e ci la faccio qua in vetro e qua ci metto una porta qua ci metto questo ok adesso vado a cuocere tutto quello che devo cuocere e prendere una porta qua ci mettiamo il vetro dove va il vetro eccolo qua ok 1 2 e 3 perfetto e qua ci mettiamo i cartelli ok qua fatto qua fatto qua fatto qua questo sarà l'iscritto migliore per cui quello che si iscriverà con 5 account me lascerà like a questo video e commenterà con fatto mi raccomando ditemi anche chi vuole essere qua deve iscriversi con almeno due account al mio canale e lasciare un like e scrivere nei commenti fatto e quando mi iscrivete fatto scrivetemi anche con che account con anche altro account vi siete iscritti ok 3 6 e 1 ve ne mettiamo anche già che ci siamo 1 e 2 primo secondo e terzo per cui il primo che me iscriverà questi messaggi verrà qua il secondo verrà qua e il terzo verrà qua e poi tutti gli altri qua e man mano anche sotto e vabbè ci siamo capiti allora per questo video è tutto tranne che devo mettere le torce a ogni angolo ok corri 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 ok ah non ha fatto la porta ma tanto chi se ne frega delle porte ok perfetto che carino sta a fare allora ragazzi per questo video è tutto noi ci vediamo ad un prossimo video vi ricordo come al solito che se vi iscrivete con un account mi iscrivete fatto con l'account come siete iscritti vi verrete messi qua poi e di andarvi ad iscrivervi anche all'altro canale che è FedExGameLive che lo troverete il link in descrizione e che se trovi al canale in cui farò le live poi lasciate like questo video o scrivete un commento o se volete avete più delle informazioni e noi ci ragazzi ci vediamo in un prossimo video bye la raga